Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione tra BV1 Variante e Sasso Marconi Nord, 2 km di coda in direzione di Bologna. Troviamo inoltre coda in uscita a Firenze Sud, in carreggiata opposta. Sulla Firenze Mare resta coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. Regolare al momento il traffico in Fipili dove segnaliamo la presenza di personale su strada tra Lavoria e Gello per chi viaggia verso Firenze. Prima di salutarci per il traffico ferroviario per un problema al sistema di controllo della marcia, il treno 3032 Orbetello-Firenze-Santa Maria Novella ha maturato un ritardo di 50 minuti ed è stato cancellato nella tratta tra Siena e Firenze-Santa Maria Novella. Effettuato treno straordinario 11898 da Siena a Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!